Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora dopo praticamente quasi tutta l'estate finalmente video dei prodotti smaltiti, la busta e stracolma Dentro non ho messo per ricordiologica le cose che ho finito in questa prima settimana di settembre perché non mi sembrava il caso di inserirli anche perché non c'entravano più quindi li vedrete spero a inizio ottobre se non mi perdo nella mia programmazione non faccio questo video da due mesi, forse tre, non mi ricordo se sono... comunque trovate il... cioè nel titolo metterò i mesi ai quali si riferiscono questi prodotti che ho finito di tutti i prodotti che esiste nella recensione nel mio canale troverete il link sia qui in sovraimpressione che giù nell'info box dei prodotti invece che non ho mai fatto una recensione, parlo in questo video brevemente tanto per darci qualche linea guida qualche altra cosa? Sì, ho cambiato postazione, sono sul letto di mia sorella che in questo momento sta facendo da divano della camera perché voglio differenziare un po' le... mi sa che sono storta, scusate, mi accento vorrei differenziare un po' gli ambienti... questa è una piccola video del canale vorrei differenziare gli ambienti nei quali... gli ambienti... l'inquadratura nelle quali giro i video probabilmente rimarrò qua sul... su questo divano, il letto divano... su questo letto che ho trasformato in divano mettendo i cuscinoni per i video semifrivoli come possono essere gli acquisti e i video di prodotti rimaltiti o... non lo so... magari le recensioni dove ero prima... devo vedere... poi vorrei fare anche dei tagli per forse mi siederò sulla poltrona di Maggie... ora vediamo... comunque per ora decido che i video dei prodotti smaltiti saranno in questa postazione... spero che vi piaccia... se non vi aggrada fatemelo sapere... cercherò una soluzione o magari... non so... daremi qualche... qualche vizza il prodotto che fuoriesce è questo... della Program Soleil... è un latte spray ultraprotettivo all'estratto di Plakton... SPF UVB UVA++... protezione alta 50... resistente all'acqua e alla sabbia... l'ho adorato... specialmente sui nail perché è molto corposo... mi dava sicurezza sinceramente... Stenom... anche questo della linea Dermacare Sun Protection... è uno spray... protezione molto alta... SPF 50... anche questo l'adoro... lo uso da secoli... la tradizione erboristica... intimo... con olio essenziale... di lavanda... amico della pelle... senza sodium... non so cosa sia... conservanti... testate per il contenuto di nickel... cromo e cobalto... stop... e testi sugli animali... ho adorato questo... vede... argente intimo... sia per il profumo... per la delicatezza... vabbè... c'è la retenzione... comunque mi è piaciuto tantissimo... al cuore è un boccidione da 250 ml... e vi dura un paio di vite... della Garnier... l'ultra dolce balsamo crema... l'estratto di camomile legniere... schiarisce riflessi... e ravive riflessi... capelli chiari... senza far bene stratti naturali... ne ho già ricomprato un altro perché... tra i balsami che aiutano a far rimanere il capello biondo... è il mio secondo preferito... il primo è quello dell'asciuzza... ma non sempre riesco a trovare il balsamo... si trova più facilmente... lo shampoo... comunque ora sto usando un'altra confezione di questa come balsamo... e anche un balsamo della Garnier della stessa linea per fare lo shampoo... non ve l'ho mostrato in un video acquisti perché non ho avuto il tempo di farlo... ed ero rimasto senza shampoo... ve ne riparlerò quando finirà quindi in uno dei video di prodotti smaltidi... scusate mi sto perdendo... poi ho deciso di buttare questa confezione di Sephora... stava in un kit da viaggio perché si è rotto il tappino... la plastica si opacizzata... non so per quale strano motivo... e non mi sembra più il caso di utilizzarlo... quindi lo butto via... ogni tanto questi contenitori di plastica così fatti per gli agi... cambiateli perché comunque la plastica non è eccellente... e si rischia di avere piccoli problemi... non so... possono cambiare consistenza le creme... diverse costrucce... quindi io lo cambierei ogni... non so... ogni 2, 3... anche 4, 5 utilizzi... ecco... sì... poi... seta blu... nail polish remover... arricchito con estratto di alga rossa... aiuta a migliorare la resistenza e l'elasticità delle unghie... mi è piaciuto tantissimo... non tantissimo... io adoro quello della... come si chiama? questo è seta blu... dolce sguardi... ecco... per me è il migliore... l'isterine... allora... è il trattamento per l'ipersensibilità dentinale... è il colluttorio... agisce come uno scudo fisico a difesa dei nervi esposti per... una profonda protezione e l'ipersensibilità... protezione di lunga durata... alla menta fresca... questa era una confezione e prova che papà mi ha portato da un... meeting o qualcosa del genere... da 250 e meglio... non solo confezione bianca quanto sia e quanto costi... ma io l'ho trovato eccezionale... questa sala ha avuto un problema di sensibilità... dentinale... da impazzire... io ho dovuto bere acqua a temperatura ambiente... tutta l'estate... non mi sono potuta godere... una coca cola ghiacciata... una birra fredda... un bel cocktail... perché morivo... di giuro morivo... praticamente ho questo problema da... aprile più o meno... sono anche sola dal dentista ma... sono i miei denti... non mi poteva dare nulla di più... di un dentifricio per i denti sensibili... un colluttore per i denti sensibili... che mi aiutassero... la sensibilità dentinale dura da tanti fattori... che possono essere anche alimentari... però essenzialmente il mio dentista è stato per una prova... a modificare un po' l'igiene dentale... cioè i prodotti di igiene dentale... vediamo come va... quando usavo questo conduttorio... ho ritrovato un po' di pace... potevo bere cose... fredde e non freddissie... perché comunque un pochettino ce l'ho mai... io credo che sia anche un problema di... di gengive... la mia sensibilità... e poi diventa ancora più complicato... perché non sono una dentista... comunque questo... colluttorio mi ha... aiutato... tantissimo... si sono passata un dolore... 100... quando ho fatto gli sciocchi... questo colluttore... il mio dolore... era... 40... 35... quindi... un gap... esagerato... buonissimo... quando è finito... con il mio sommo dispiacere... un prodotto della G-Cube... della linea Rolling... Rolling... Corse... è la... l'olio non olio... definizione ricci... è un prodotto che si usa... sui capelli umidi... e poi dopo... o si lascia asciugare... al vento... all'aria... come faccio in estate... oppure... li sciuo con il diffusore... che regala un riccio... molto più definito... e morbido... rispetto alle spume... almeno quelle di una volta... io ora sto usando una spuma... un po' vecchiotta... e mi lascia i capelli... un pochino duri... non so... le nuove generazioni di spuma... come sono... ma questo prodotto... mi lasciava i capelli... morbidissimi... con un riccio... semi defile... perché comunque... sono mossa... non sono riccia... un pochino... un pochino di onurazione... extra... mi lasciava... questo è un mio capelli... al naturale... ho pure dormito... so... perché era un pochino umido... ieri sera... se vogliamo... ho un mal di testa... qua dietro... comunque... mi è piaciuto... non tantissimo... di più... un altro... con un'altra confezione... prova... della Listerine... questo invece... è il... total care... colluttorio... 6 benefici... in uno... sempre alla menta... pura... senza infamia... senza lode... avevo un alito fresco... però... il mio problema... di sensibilità... con questo... non è... che l'ho... risolto più di tanto... avevo... si... le fungine... meno... meno... forte... o meno... rosse... e... riesce a usare... un'altra confezione... non ricordo... se ne ho usato... uno di questi due... no... solo uno... ho capito... perchè... quest'altra invece... poi è un'altra... tecnologia... comunque... buono... si... un colluttorio... l'altro che vi sto mostrando... è questo qua... questo invece... è... protezione bianco... naturale... riduce la placca... che rimuove... fino al 97%... dei batteri... che... lo spazzolino... non elimina... questo è quello... della pubblicità... si... colluttori... non è che... andiamo a vedere... se... si è migliorata... la situazione... ci sono il 98%... dei batteri... meno sulla bocca... riconosci... l'alito... più fresco... riconosci... di sentire... questa... freschezza... in... in bocca... diffusa... che perdura... però... non è che... ci... guarda... non... non lo puoi dire... un colluttorio... ho finito... della... tutti sporchi... che spredotti... della... terme di salsa maggiore... uno spray dermatologico... acqua... fonte termale... salsa maggiore... contiene... acqua... vabbè... si... di... salsobromo... indica... naturale... di termine... di salsomaggiore... senza conservanti... senza profumo... lenitiva... rinfrescante... indicata... per le belli... dedicate... sensibili... questo è il mio... tonico... il mio fissatore trucco... la mia acqua... rinfrescante... la mia acqua... tutto... ne ho un'altra confezione di là... ma... l'adoro... mi piace... di più... di più di tantissimo... i brochets... questo è... se si legge... non si legge più l'italiano... olio d'orcia... orientale... che aveva un profumo paradisiaco... ah... che si sente ancora... la bottiglina è troppo carina... non so se... conservarmela... però diciamo... che è... doma metto... doma metto... non lo so... poi vediamo... però la confezione è molto carina... eh... quelle salviette sono... sono queste qua... si... sono queste due salviette... perchè... poi vedo le mie sorelle... quindi quelle che abbiamo utilizzato insieme... per ricordi logica... non le ho messe... all'interno della busta... perchè sono stata... aiutata... oh... tutto sporca... la roba qua dentro... comunque sono... questa... della... laurella... salviette struccanti... disocchi e labbrano... parabeni... tessuto... anibedati... elasticizzato... con effetto... cutaneo... massaggiante... rimuovendo il trucco... waterproof... micella... pro... pul... multivitaminica... antiradicali... con... provitamina B5... vitamina E... per tutti... i tipi di pelle... anche... sensibile... dermatologicamente... oftalmologicamente... restate... anche per... ovviamente... eh... destratto di camimilla... olio di mango... letto... vitamina B5... e vitamina E... cioè... ho ho letto... 20 salviette... mi piacciono... hanno un buonissimo odore... di camimilla... sputtano... effettivamente... il tessuto è... molto morbido... sono ben impregnate... eh... le usa anche... Bax 2007... visto che le usa... mi piacciono... poi quest'altra invece... sono... della seta blu... soffice... tessuto a nido d'ape... con estratti di aloe vera... se sennò... più grandi... non dovrà... per contenersi... 40... salviettine... con la chiusura... questo qua... oddio... va... non... con l'adesivo... ma proprio la chiusura... a clip... diciamo... o scatola... non so come dirlo... eh... queste sono belle grandi... spruccano bene... vi piacciono... specialmente quando... non so... devo andare vicino... vicino all'occhio... anche... anche queste qua... sono molto morbido... quindi... non vi rischiate di farvi male... sono bene impregnate... non bruciano gli occhi entrambe... il tessuto è morbido... si... uno vale l'altro... tranquillamente... ha... dell'alicia solare... una crema protettiva... sotto controllo... pelle sensibile... 50 a più... con estratti lenitivi... puri... per il viso... non para... non parfum... questo l'ho comprata... ancora l'anno scorso... che non mi era finito... fin da metà di quest'anno... quindi... mi trovavo all'interno... dei... dei mesi... erano... cioè... ho finito praticamente... ma non... non era ancora estate... tecnicamente... non era ancora il 21 giugno... così... vabbè... però tecnicamente... ci sta... poi... eccola qua... questo qua... il mio levo smalto preferito... dolce sguardi... leva smalto... sta rapido... nuova formula... senza acetone... made in Italy... questo... rimuove tutto... in una sola passata... così... e fila... tutto... poi... Bulgari... mousse... in italiano... mousse detergente... illuminante... bellissima... profumatissima... ma confezione... bruttissima... se vi interessa... vi lascio il link... della recensione... questo è il punto... poi... ehm... smalto... della... xstyle... dovrebbe essere... che si è cancellato... il nome avanti... si... xstyle... è il numero 82... è un... un bianco latte... mi... si è... si è... si è incollato... non si apre più... però vabbè... è rimasto... sblocciolino sotto... uno smalto... quello con bianco... e tutte le volte... questo qua... tipo di smalto... mi ci faccio... alla base della French... perché non mi piace... quella rosa... preferisco... quella in bianco... della stessa linea... del bagno d'orcio... l'olio d'orcio... là... carino... che voglio lasciare... la confezione... avevo... finito anche... questa... che è... mamma... come profuma... è un balsamo... di argan... nutriente... trattamento quotidiano... per il corpo... mamma mia... questa linea... ha un... una profumazione... veramente... buonissima... eh... butto via... una lima... a se faccio... dell'essence... perché... si è consumata... ora... diciamo che... sono... un pochino... differenti... anche come consistenza... con le nuove... quelle nuove... che ho trovato... e non mi fa impazzire... rispetto a... come erano prima... ancora... i crochet... queste... della linea... nutrizione... è... un... latte nutriente... pelli secche... 200 ml... di prodotto... per il corpo... alla... mandorla... buono... buonissimo... profumo... buonissimo... una polvere... oddio... i miei capelli... una polvere... scintillante... che usavo... per l'highlighting... che mi è finito... peccato... lo adoravo... lo usavo... come lighting... come punto luce... sotto il sopracciglio... come punto luce... all'interno... arco di pupido... bellissimo... 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 altro smalto... della B-Up... ehm... numero... 52... lo butto... perchè... mi si è rotto il tappino... non so se si vede... anche un pochino scorciato... ma ovviamente... è entrata l'aria... e il prodotto si è seccato... anche se era quasi alla fine... ora... volevo andarmi a prendere... quello nero... super corpente di MAC... quando comprai questo qua... non lo volevo... non volevo questo... in quel momento... ero andata a Venezia... in vacanza... ed ero entrata da MAC... alla Pauline... e volevo... e... era super bellissimo... quel nero... uno smalto così nero... non lo capisco... nessuna torte... però non ce l'avevo... non mi sono anduta a contentare... di questo... quando sono tornata dalle vacanze... e scesi a fare... artista... e mi comprai questo... ora che mi è finito questo... sono andata da MAC... perchè ora l'hanno aperto... anche qua a Salerno... ehm... buonasera... sto cercando lo smalto... quello super nero... di MAC... che basta... una sola massata... e... mi dispiace... ci è finito... io così... ho deciso che non me lo compro... finchè... non arriva... e me lo riesco a comprare da MAC... non so se resisto... perchè io adoro mettermi... il nero... anche in estate... primavera... tutti... tutti i mesi per me... sono belli per mettere... per mettere il nero... mi piace il nero... sulle unghie... ma anche addosso... non mi faccio problemi... chico... ehm... un... una crema doccia... al mango... qualche... che profumo... qualche... non l'è stata scorsa... mi sa quella prima ancora... era in edizione limitata... non so se è stato riproposto... quest'anno... ora è della nottura... ricordo... ma è un pochino labile... ancora il brochet... questo è della linea bellezza dei piedi... lavanda bio... lavanda bio organica... che no... lavanda bio... che vuol dire... ho fatto il studio tra il francese e l'inglese... è uscito... lavanda bio organica... va bene... come ti chiami? crema nutriente... piedi... anche se è molto nutriente... non è uno di quei... super pesantoni... che se poi andate a mettere... con una scarpa aperta... sciu... scivolate... fate lo sciu... scivolo... e scondottere i video da fuori... rimane abbastanza secco... tra virgolette... sui piedi... inoltre senza... fare questo brutto... swish... ancora il brochet... un balsamo lampra... al framboise... che sarebbero lamponi... è l'unico... dei prodotti... da... non so se si vede... non credo... perché sono lontanissima... comunque l'ho scavato... anche all'interno... e... tra i bassami... labbra di questa... è l'unico... che colora... tutti gli altri... hanno... funzioni specifiche... ma l'unico... che regala... un tono di colore... rosaceo... sulle labbra... un po' di più... è soltanto questo qua... al framboise... e... ora ne ho un altro... non ho ancora messo... in alto... perché... non so... sanno ancora altre cose... ma... qui là... parleremo anche di quelli... non colorati... sono molto toponi... questi colorati... la mattina... misura di fretta... scusate... il telefono... pensavo che era una chiamata... tolgo di mezzo... un altro contenitore... di questi... da viaggio... questo... rispetto all'altro... che è sovrascizzato... è diventato... gommoso... all'interno... quindi... controllate... ogni volta che... dopo che li avete lavati... li conservate... per il viaggio successivo... controllatevi sempre... se qualcosa... buttatevi via... biglio... vinano sole... create... poi mettete... in faccia... l'ultimo prodotto... il crochet... un innesimo smalto... questa è la base... unghie... rinforzante... che non è che... mi ha rinforzato tantissimo... e si è anche... coltato... come ho preso in mano... e mi si è spaccato... wow... ce l'ho fatta... allora... noi ci vediamo... nel prossimo video... che non so cosa sia... spero... recensione... perchè ho tantissime cose... come ho detto... nel... due video fa... ho tante cose... di cui vi devo parlare... e non ho avuto il tempo... di farlo... in questo... quest'ultimo mese... praticamente... io comunque vi mando... un grosso bacio... e ci vediamo... al prossimo video... ciao ragazze... ciao ragazzi... in gamba...